Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere gli altri accessori dedicati alla personalizzazione della nostra macchina. In questo caso parliamo di accessori o personalizzazioni per la mia macchina un Audi A4 B8 del 2010. Il sito dove abbiamo presentato questo accessorio qua e autoelegance che ad ogni modo adesso vi faccio vedere l'apertura del pacco, il sito e poi il lavoro finito. Ragazzi il sito in questione come vi dicevo è questo qua autoelegance che ad ogni modo è semplice trovarlo basta andare su google andare sulla barra della ricerca e scrivere autoelegance e la prima ricerca che ci dà è il sito dedicato ci clicchiamo sopra e in automatico ci porto sul sito. Stesso qua abbiamo accessori per tutte le macchine in questo caso se sapete già cosa potete acquistare basta scriverlo qua sopra la barra di ricerca stesso all'interno del sito e quindi scrivere minigonne Audi A4 e in automatico ci dà tutte le minigonne dedicate all'Audio A4. In questo caso non ho selezionato l'anno di costruzione della vettura altrimenti andava dedicata su quella vettura là ad ogni modo eccole qua le possiamo trovare qua quelle che adesso ho acquistato io sono queste qua ci clicchiamo sopra eccole qua sono di tipo S line come già potete vedere all'interno del titolo di questo articolo qua e ad ogni modo anche sotto c'è scritto per quale anno di auto va bene per quale il modello va bene la descrizione dell'articolo le informazioni tutte quelle cose che comunque possono servirci per andare sicuri su quello che dobbiamo acquistare eccole qua come potete vedere sono di tipo originale Audi e vanno applicate sotto la porta come vedete su questa fascia qua ad ogni modo adesso andiamo a aprire il mio pacco e poi dopo di che portiamo l'auto in carrozzeria e faccio del lavoro finito ok ragazzi detto ciò venite con me Grazie a tutti ragazzi ed eccoci qua e adesso vi faccio vedere gli accessori che avete appena visto ragazzi invece queste qua sono le meligone e adesso ve le faccio vedere come potete vedere vi arriva una coppia a casa e in questo caso le sfiliamo solo sono fatte in vetro resina come potete vedere e sono identiche al modello di tipo S line anche queste verranno trattate le andiamo a far verniciare e poi le montiamo alla macchina adesso vi faccio vedere già diciamo come adesso vengono montate e poi faccio vedere l'effetto finale ed ecco qua ragazzi queste qua vengono fissate qua sotto qua vedete in questa maniera qua in questa posizione qua adesso non ci resta che portarle in carrozzeria e poi farle verniciare venite con me e portiamole in carrozzeria ok ragazzi allora eccoci qua in carrozzeria adesso non ci dà che altro che andare a ritirare la macchina e vedere il lavoro finale ed eccola qua ragazzi appena lucidata e montato ragazzi ad ogni modo come sempre all'interno della descrizione fatemi sapere cosa ve ne pare e se vi piace ok ragazzi ecco qua la macchina questo qua è il lavoro finale appena ritirata dalla carrozzeria come potete vedere abbiamo montato le miniconne di tipo S line fatemi sapere all'interno della descrizione cosa ve ne pare e se vi piace è non adesso Grazie a tutti. Ok ragazzi, anche questo video è finito. Ad ogni modo, come sempre, se ancora lo avete fatto e anche per sostenere il mio canale, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e attivate la campanella per essere sempre attivi sui miei nuovi video. Ad ogni modo, se avete bisogno di qualsiasi altra cosa, scrivetelo nei commenti e come sempre, quello che posso fare, sono sempre felice di potervi aiutare. Ok ragazzi, ciao ragazzi e al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.